Arribol, stazione meteorologica sovietica vicino a Saridash, sentite la voce come ero in bomba. Arribol! Questo qua si muoveva quando ero pensionante. E' un radar. Adesso ve lo mostro dall'esterno. Beh, dopo. E intanto ci guardiamo nel Big Lenin, che è quello lì. Questo, ieri che sono confuso con l'altro. Bello, anche qui. Arribol! Che storia! E' circondato con e chiuso col recinto. Però siamo entrati lo stesso e ho detto che non c'è problema. Ormai è tutto in disuso. Ce ne sono due. Per la seconda palla, un po' più piccolina. Alle spalle... Ah, questo mi si è chiuso con la rete. Chissà come mai. Vedi? Come questo è molto più grande. La guida, il panier espresso. Allora, c'è la neve che è compatta e quando cammini, scricchiola, sembra che dovesti cadere da un momento all'altro. E ogni tanto, quando c'è la vallata, l'affossamento, si precipita un po' con la gamba fino alle caviglie. Guarda com'è grande. Di là è la Cina E dietro di qua il Tajikistan Ok, arrivo.